Piero Fassino, 1921-1991. Da quel 21 gennaio a quel 3 febbraio sono passati 70 anni. 70 anni in cui un partito che era nato per fare la rivoluzione è riuscito in tutti questi decenni a inserirsi nel mondo democratico, divenendone uno dei cardini principali. È così. Il titolo del libro è molto chiaro. Dalla rivoluzione alla democrazia. Perché il PC nasce per fare la rivoluzione, per fare come in Russia, si diceva allora. E rompe con il Partito Socialista e fa la scissione perché considera che il Partito Socialista parla di rivoluzione ma in realtà non fa nulla per farla. Poi quel partito che nasce per fare la rivoluzione in realtà si trova subito a dover fare i conti col fascismo. E quindi il problema non è fare la rivoluzione ma è lottare contro la dittatura. E nella clandestinità il partito è comunista, è certamente il partito più presente in Italia. Poi anche gli altri partiti naturalmente conducono la lotta contro la dittatura ma soprattutto dall'esilio. Il partito comunista è l'unico che mantiene una struttura clandestina nel paese pagando anche un prezzo alto di condanne, di confino, eccetera, eccetera. Poi il partito comunista è la principale forza che alimenta in modo unitario con le altre forze la resistenza e la lotta di liberazione, la lotta partigiana. Poi concorre a scrivere la Costituzione che ricordiamo ha tra i suoi tre firmatari, Terracini. Concorre a costruire la Repubblica e concorre via via a definire il profilo democratico della società italiana. Divendo veramente un cardine. E quindi in questa evoluzione il partito nato per fare la rivoluzione in realtà diventa un cardine della democrazia fino a quando questa democrazia è insidiata dalle stragi nere e dal terrorismo rosso negli anni 70-80, il PCI è l'argine fondamentale per difendere lo Stato e la democrazia. Perché secondo lei in tutti i paesi della parte occidentale dell'Europa, proprio in Italia, il partito comunista è il più forte, il più grande rispetto agli altri stati? Per più ragioni. Una prima ragione è che il partito comunista, grazie a questa evoluzione e grazie soprattutto alla svolta di Togliatti, con la svolta di Salerno, il concorso alla Fondazione della Repubblica, il partito di massa, eredita la grande tradizione socialista di fine ottocento e inizio novecento. Le regioni più forti del partito comunista sono state le regioni rosse, come si diceva, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria. Beh, se si va a vedere nella storia, sono le regioni dove è nato alla fine ottocento, nella prima parte del novecento, era molto forte il movimento socialista. Quindi il partito comunista italiano eredita e fa sua, diciamo, il patrimonio di lotte del movimento socialista. E l'altra ragione attiene proprio alla formazione di questo partito, che a differenza degli altri partiti comunisti è sempre stato diretto da un ceto intellettuale. Gramsci, ma Togliatti era un intellettuale, Perlinguer lo è stato, Amendola, Ingrao, Di Giulio, Natta, Reikling, no? Faccio fino a Macaluso, che ci ha lasciato in questi giorni. Tutti questi dirigenti avevano un profilo intellettuale molto alto e molto forte. Anche negli altri partiti comunisti, intendiamoci, c'era una presenza, pensiamo al partito comunista francese, i migliori intellettuali di Francia erano legati a quel partito, ma erano, come si diceva allora, compagni di strada. Cioè accompagnavano il partito, erano fiancheggiatori, ma non guidavano il partito, non lo dirigevano. Il partito comunista italiano è l'unico che ha sempre stato diretto da un gruppo dirigente di forte spessore intellettuale con una radice nella cultura nazionale del paese. E che quindi conosceva molto bene quelle che erano le necessità della società italiana. Quando si parla anche oggi del partito comunista di allora, chiaramente, viene sempre in mente questa sorta, mi consente il termine, di doppia chiesa politica. Cioè da una parte il partito comunista e dall'altra la democrazia cristiana. C'era anche, non posso dire Peppone e Don Camillo, che tutti amiamo nei lungometraggi, ma anche nei piccoli paesi o nei grandi paesi. C'era una situazione, io ricordo per esempio nel mio paese, il fondo dove c'era il partito comunista e la democrazia cristiana, stavano uno attaccato all'altro, di spalle diciamo, e c'era solo un muretto che li separava. Ma guardi. E passavano le sere a ascoltare di là che da succedere, era divertentissima sta cosa. Ma guardi, una delle formule usate per la costruzione del partito di massa nel 45-46 era una sezione di partito a fianco di ogni campanile. E in quegli anni, una delle grandi invenzioni di Togliatti è il partito di massa che supera il partito di quadri. Il partito di quadri era necessario nella clandestinità, è ovvio, nella clandestinità devi essere un partito, come dire, militare, come struttura organizzata, clandestina, eccetera. Quando tu ti affacci a una società libera, invece costruisci il partito di massa. E quella invenzione è diventata un modello per tutti i partiti. Allora, io racconto spesso questo episodio che è gustoso. Negli anni Ottanta vado a fare una festa dell'unità in provincia di Ferrara e mentre sto andando in macchina vedo in lontananza delle luci che mi sembrano una festa dell'unità. Allora chiedo all'autista che mi portava, al compagno che mi portava, e dico, andiamo lì? Guarda e mi dice, no, quella è la festa dell'unità dei repubblicani. La festa dell'unità dei repubblicani. Cioè, il modello del partito di massa, un partito radicato e diffuso in tutto il paese, con tanti iscritti, il PC arriva a 2 milioni di iscritti, con un sistema collaterale di organizzazione di massa per avere rapporto con la società, con un'attività di formazione, le scuole di partito, con un'attività editoriale. L'unità non è mai stata solo una gazzetta di partito, è stato sempre un grande giornale di informazione. Quel partito di massa è diventato un modello anche per gli altri. Tutti gli altri partiti si sono strutturati così. C'erano le feste dell'unità, ma poi c'erano le feste della democrazia cristiana, del partito liberale, del partito... Perché c'erano le feste dell'Avanti, le feste della voce repubblicana, ma nella vulgata erano la festa dell'unità di quei partiti lì, e che la dice lunga, no? La dice lunga, voglio dire, che avevano seminato bene, quello avevano colto nel segno. Adesso, chiaramente, come tutte le cose umane, anche il Partito Comunista ha avuto un inizio e ha avuto una fine. E vorrei con lei ripercorrere rapidamente, chiaramente, questo periodo, però usando un metro e un metodo differente. Lei mi seguirà non soltanto come persona, come un politico, che ha fatto della propria vita anche questa professione, ma anche privatamente. Certo. Cioè, vorrei attingere da un testo molto noto, che fu scritto dopo la fine del Partito Comunista, proprio di Giorgio Gaber, e prendere qua e là qualche frase e vedere lei come reagisce al momento. Quello era, qualcuno era comunista, perché il babbo, lo zio, il fratello, la mamma no. Beh, ma questo, diciamo, era in molte famiglie italiane. In molte famiglie italiane. In genere, l'uomo era più facilmente comunista, perché era un operaio, un contadino, quindi entrava in contatto con le organizzazioni politiche. Spesso la mamma, cioè la moglie, era una casalinga, quindi aveva un rapporto diverso. Poi sappiamo bene che, diciamo, per un periodo, la componente femminile della fede cattolica era prevalente rispetto alla componente maschile, eccetera, eccetera. Quindi, in molte famiglie. Però in quelle famiglie c'era una coesione, un'unità, che nonostante queste diverse appartenenze non faceva venire meno l'affettività. Allora, adesso le racconto un episodio. Posso anche dire alla persona, perché l'episodio me l'ha raccontato lui. Allora, Carlin Petrini, come no? Il grande fondatore di Slow Food, aveva un padre comunista, un operaio. La mamma era una donna molto di fede. Nel 1948 la mamma va in chiesa a confessarsi, essendo donna molto di fede, e a un certo punto c'era stata la scomunica di Pio XII, il confessore, e dice, ma signora, lei come vota? E lei risponde, ah, io voto come mio marito. E il confessore dice, e come vota suo marito? E mio marito vota comunista. Eh, ma signora, io non le posso dare la soluzione. E questa donna, molto fiera, gli rispose, e allora la tenga per sé. Questo episodio Carlin Petrini l'ha raccontato a Papa Bergoglio. E Papa Bergoglio qualche giorno dopo gli ha scritto una lettera dicendogli quella sua madre era davvero una donna di grande, di grande statura. Professore di grande statura. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, e vedeva anche il comunismo come un paradiso terrestre. Beh, è così che è nato il mito. Perché quando si fa la rivoluzione di ottobre, nel 1917, Lenin fa la rivoluzione d'ottobre, come viene vissuta da milioni di persone nel mondo? Ma allora si può fare. Cioè c'è un posto dove non ci sono sfruttate e sfruttatori, gli uomini sono tutti uguali, tutti hanno gli stessi diritti, tutti sono liberi e in grado di esprimere la propria personalità, tutti, come aveva scritto Marx, potranno essere riconosciuti nella loro capacità e avere ciò che gli serve nei loro bisogni. No, è la materializzazione, per questo diceva fare come in Russia, perché se si è fatto lì allora si può fare l'astrovo. Poi naturalmente si trattava, la storia si è incaricata a dimostrare che era una grande utopia, però l'elemento emotivo, il sentimento era quello ed è durato a lungo, è durato a lungo. Ci aggiunga per esempio che l'Unione Sovietica è stata protagonista fondamentale nella sconfitta del nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale, Stalingrado, per citare un nome simbolico. E tutto questo accresceva il fatto che il mito, il mito di cui parla, che naturalmente però era un mito, tanto è vero che a un certo punto quel mito si è rivelato tale. Mi permette di concludere questa nostra chiacchierata con un'altra frase, sempre presa dallo stesso brano di Gaber, dove dice qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Assolutamente sì, e lo si è visto nel cordoglio enorme che si è espresso quando Berlinguer è morto in quel modo drammatico, il modo in cui è morto, cioè... In mezzo alla sua gente. In mezzo alla sua gente, su un palco di un comizio, mentre sta parlando alla sua gente e quando già il male lo prende, continua a parlare perché sa che la gente aspetta la sua parola, quel modo drammatico ed è anche la manifestazione di una straordinaria generosità, di una straordinaria forza. E poi per tutto quello che ha fatto, perché Berlinguer è quello che ha portato, diciamo, in modo più conseguente a compimento quella evoluzione democratica di cui abbiamo parlato, perché lui è l'uomo che assume l'Unione Europea e l'Europa come il contesto dentro cui il PC si colloca, supera i pregiudizi nei confronti della Nato, lancia il compromesso storico, lancia l'austerità, guida la battaglia contro il terrorismo e strappa da mosca, cioè porta a compimento fino a quando esprime tutto questo con quelle parole straordinarie che sono l'identità del partito, cioè la democrazia è un valore universale imprescindibile per qualsiasi politica di trasformazione sociale. Qualsiasi cosa, tu vuoi cambiare il mondo? Sì, non lo puoi fare se non nella democrazia. L'affermazione fortissima. E poi lo stile dell'uomo, perché Enrico, io ho lavorato con Berlinguer, ho tanti ricordi, era l'antimito, sobrio, tranquillo, mai una parola fuori misura, mai un tono di voce eccessivo, sempre pronto ad ascoltare, quello era l'antimito. E forse è per questo che piaceva. Eh certo, piaceva molto. E ancora oggi si ricorda. Trasmetteva un'idea nobile della politica. Piero Fassino, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie per la visione!